salve a tutte e tutti qui un'ennesima volta il vostro sentenza con delle breve considerazioni e delle brevi esperienzioni a quelli di youtube mi consigliano sempre a fare degli stacchi di mettere dettagli quindi mi sono sempre chiesto perché casaleggio pepegrillo fondando il loro movimento dovessero chiamato movimento 5 stelle e poi anche se il loro discorso è che già non esistono più gli schieramenti convenzionali della politica destra sinistra non hanno più senso le logiche sono cambiate rappresentative o dovrebbero essere cambiate e anche le classi sociali non esistono più come nell'ottocento comunque mi sono sempre domandato quale fosse lo schieramento politico di casaleggio pepegrillo perché loro hanno fatto il non manifesto del non movimento e vabbè ma che significa e parlano che che significa parlano come rheinisch o come la un se il non movimento il non statuto lo statuto 0 non so che cosa quando adesso poco fa guardando nel cellulare dei video a proposito della crisi cinese ho visto che appunto una cosa che già sapevo che la bandiera cinese e pentastellata dicevo la bandiera cinese e pentastellata non soltanto perché ha la stella a cinque punti ma perché ne ha cinque quindi è proprio pentastellata già la pentastella pentastellata mente una grande stella cinque punte nel centro e quattro piccolini intorno quindi forse anche se qualcuno dice che beppe grillo parla come fascista che il movimento 5 stelle di destra forse in realtà esistirano a molti perché non si sa mai con questi nuovi movimenti nazionalsocialisti o nazional popolari parlano come hitler che in un discorso e nel reichstag sembrava veramente che parlassero un anarchista o comunista ecco perché beppe grillo tempo fa ha detto io sono andato oltre hitler voleva dire che il suo socialismo è andato oltre il socialismo nazionalista di hitler che si ispirava appunto alle pentastelle della bandiera della repubblica popolare cinese d'altra parte anche la repressione in cina è molto dura hanno schiavi che lavorano nell'industria e quindi non hanno nulla a che invidiare o un socialismo nazionalista di hitler oppure a un socialismo nazionalista di stalin quindi beccate di questa adesso sapete che la confusione ideologica del movimento 5 stelle che comunque ancora ci dà la speranza il movimento 5 stelle di poter combattere la corruzione in italia però ideologicamente si tratta di un movimento che diciamo si può ispirare al socialismo cinese ecco perché pentastellati uno pensa sempre agli hotel 5 stelle no 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 alla repubblica 5 stelle popolare cinese in cina da già da decenni hanno denunciato la totale distruzione di quartieri molto antichi è un po come se in italia distruggessimo i bordi antichi delle nostre città per costruire edifici ville anche palazzi abbiamo criticato berlusconi quando ha fatto milano 2 milano 3 chissà dove sarà arrivato beh in cina è stato peggio una cosa del genere soltanto lei è riuscita a fare pol pot quando ha svuotato le città di cambogia quindi il comunismo c'è al comune che risuota le città l'unica differenza tra i cinesi di questi ultimi 20 30 anni e pol pot e che pol pot ha svuotato le città che già erano abitate per portarvi la gente al campo e poi farla vivere gli stenti invece i cinesi comunisti di adesso hanno creato delle città nuove perché pensavano che così la gente non avrebbe più vissuto gli stenti invece poi la speculazione edilizia cinese comunista che è capitalista ha rincarato il prezzo delle case e adesso si stanno rovinando abbandonate gli edifici le case perché nessuno le può comprare chi le compra le compra per rivenderle per fare scoppiare la bolla immobiliaria poi alla fine non le compra per abitarci ma perché il prezzo aumentava e quindi dicevano vabbè il prossimo anno aumentano gli edifici del doppio mi compra adesso li vende fra due o tre anni invece poi alla fine è scoppiata la bolla immobiliaria chi ha comprato per ultimo si è fottuto però il risultato è sempre stato quello che come nella cambogia di pol pot che lui aveva rinominato repubblica popolare di campo cea nella cina attuale comunista ibrido tra comunismo e capitalismo e poi è sempre stato così comunismo cinese al contrario di quell'altro città nuove per i vari abbandonati e quindi una contraddizione più grandi di quella ottenuta da pol pot io sono anni che non vivo più a casal palocco quartiere romano pochi minuti da ostia lido accanto a lazza a pochi minuti dei forze mezz'ora da euro vicino a casa al palo vicino le terrazze abitavo proprio dietro il cartellone del drive in che adesso si chiama drive out e niente volevo sapere che è successo della mia casal palocco dell'azza e a ciglia vivo a pochi minuti anche dal ciglia perché ho sentito delle ultime inondazioni già negli anni passati ci sono state delle inondazioni pazzesche e non ho più avuto modo di ritornare a casa al palocco quindi questo video in questa parte del video faccio la seguente petizione chiunque sia di casa al palocco a ciglia azza dragona dragoncello anche castelfusano volendo però ostia le terrazze o steli d'ostia antica euro che mi dica un po come vanno le cose là io ho già queste petizioni le ho fatte in altri video negli anni passati perché sono già più di due anni e mezzo che gestisco questo canale santo in cian però nessuno mi ha mai risposto anche se il video miei mi hanno visti in molte persone però si vede che tutti quelli che guardano i miei video non sono di casal palocco oppure che se ci sono persone di casal palocco che guardano i miei video non mi rispondono e ho ricevuto molti commentari ai miei video però nessuno di quelli che avrei voluto io quindi in questo frangente frangente vi chiedo se siete di casal palocco commentatemi qualcosa su quello che succede a casal palocco ve ne ringrazierei soprattutto se mi rispondete mettendo il link di un vostro video cioè fatemi una video risposta a tutti i palocchini gli abitanti i moratori di casal palocco quindi io invito a fare una video risposta e dicendomi come vanno là le cose continuo a vedere un mucchio di video in youtube ed i commentari anche in facebook la gente che brava bravissima a criticare il giustamente il governo renzi e ogni altro politico ma dico stato usando internet come mezzo strumento di sfogo allo stesso modo in cui continuano usare i poteri forti le televisioni pubbliche e private per fare sfogare la gente con dei programmi di critica e di analisi politica quando invece tutto rimarrà uguale per farvi credere che con la discussione si cambieranno le cose in internet c'è qualcosa di diverso la gente crede che con le battute le barzellette gli attacchi mordaci e soprattutto le immagini ironiche e le caricature si possa cambiare la politica perché dopo che ha fatto il commentario dopo che ha fatto la caricatura sulla fotografia del politico la barzelletta è cambiato ci sfogliamo tutti i giorni in internet producendo tonnellate il materiale satirico sarcastico ironico però alla fine nel terreno non succede nulla i politici non si vedono toccati da tutta la ironia la satira e la critica della gente non soluzioniamo nulla ci accontentiamo di sfogarci di non ci prendiamo sul serio invece di fare dei veri movimenti e dei veri partiti politici sulla base delle nostre proteste convocandosi dal basso i cittadini aspettiamo la soluzione dell'uomo forte del partito del movimento che deve risolvere tutto perché noi deleghiamo noi pretendiamo e noi abbiamo diritti che ci devono rispettare ma non abbiamo il dovere di arrangiarci e di andare noi a lavorare perché le cose le cose succedano vogliamo che siano altri attivarsi e quindi noi come cittadini visto che paghiamo le tasse dobbiamo semplicemente pretendere che si faccia giustizia ed ordini cioè pretendiamo esigiamo abbiamo diritti ma non ci mettiamo a lavorare se vediamo che politici non cambieranno mai se vediamo che sempre ci promettono corse a vuoto per prendere i voti e li continuiamo a votare e non succede nulla allora non è questione di sentarsi comodi nella poltrona e sostituire al televisore la radio di prima internet di oggi per potersi uno sfogare come un bimbo minchia nel computer facendo delle caricature su renzi oppure scrivendo il facebook magari in una conta anonimo fake tante cose cattive e che ci sono persone che si fanno forti dell'anonimato nella rete oppure no che anche con il loro nome la loro foto pubblicano che loro sono dei rivoluzionari che loro vogliono non so delle misure forti per evitare la guerra civile o che loro vogliono una rivoluzione che loro insomma sono duri e puri che non vogliono arrivare a compromessi con nessuno non come quelli delle squadre di calcio che dicono compromessi sì infatti avevamo comprato platini adesso compromessi compro tre segani e tanti altri no altri compromessi non compromessi di compromessi qualcuno nel passato disse i cambiamenti nella politica non si raggiungono con la penna l'inchiostro e la carta o parlamentando ma con l'acciaio e il sangue e roma si direbbe oh ma date le vera fa dovete camminare e quindi cioè assurdo continuare a sfogarsi individualmente in internet pensando di essere una comunità di rivoluzionari che cambieranno tutto perché non cambia un cazzo cambiate voi il vostro modo di vivere pagando più imposte più tasse più tutto dentro pensate di essere uguali ma il sistema vi sta contando in una maniera o un'altra perché conta sulla vostra vigliaccheria sulla vostra così la minimità e sul fatto che vi sfogate individualmente in internet e vi tengono controllati così se volete veramente protestare riunitevi con la gente nel mondo reale e fate qualcosa di concreto perché se continuate a vedere che le rivoluzioni si possono fare spendendo i propri risparmi in un iphone o in un android e poi fare video in casa su quello che potrebbe succedere nella politica bene allora campacavallo che l'erba cresce potrete continuare così altri cent'anni che non avrete mai cambiato nulla in politica e non vi aspettate che vi venga tutto dato avete sì dei diritti e dovete esigere dai politici una migliore attuazione però avete anche degli obblighi e dei doveri come cittadini che se voi credete che in italia si possa vivere meglio e che politici non fanno tutto quello che devono fare o non fanno nulla voi avete nei confronti i vostri dei vostri figli e dei vostri concittadini e dei discendenti l'obbligo di attuare il dovere di morale ed etico queste sono state alcune delle considerazioni che mi sono venute in mente e che ho voluto condividere con tutte le tutele momento vi lascio per non fare un video troppo pesante quindi grazie di avermi seguito fin qui io sono e da presto al prossimo video ciao grazie di seguirmi e di darmi dei like e dei buoni commentari spero di non deludervi mai già sono 153 mila visioni del canale credo grazie a tutte e tutti ed è la prossima ciao grazie a tutti